È evidente che ogni forma d'arte trasmette emozioni e passioni, travagli e speranze, nostalgia e desiderio. Il linguaggio della comunicazione è molto variopinto, ma ha sempre lo scopo di regalare a chi riceve sensazioni di profondi spunti di riflessione. Ecco allora che ci si può riscoprire una sensibilità profondamente poetica, anche se per molti anni la propria forma d'arte e il proprio mestiere è stato quello di disegnare ritratti e fumetti. Così Santo di Grazia, fumettista di lungo corso, ha sperimentato con successo un altro modo di consegnarsi al lettore, con riflessioni poetiche associati a ritratti di donne fuoriusciti dalla propria intima fantasia. Ne è nato un libro, Tutto il bello del brutto anatroccolo, edito dalla Rocca Edizioni, ma di questo e di tanto altro ne parleremo a Dalla parte del libro, ma per il momento sigla. Grazie a tutti. BUS Television, buonasera e siamo ancora qui, Dalla parte del libro, la vostra fedele vetrina di novità letterarie e tante tante passioni culturali. Oggi parliamo di forme d'arte diverse che si intrecciano tra di loro, ma per regalare quelle emozioni e quella poesia che soltanto alcuni artisti possono darti. Allora, bando alle ciance, oggi abbiamo qui l'onore di avere il fumettista che è diventato anche poeta, dopo almeno si è riscoperto poeta, Santo Di Grazia. Buonasera, ciao Santo. Ed è accompagnato dalla professoressa critico d'arte e soprattutto una poliedrica scrittrice, Gloriana Orlando. Buonasera. Che in questo caso ha firmato la prefazione del libro, giusto? Giustissimo. Esatto. Allora, cominciamo naturalmente a parlare con l'autore. Allora, la prima cosa che io mi ha incuriosito, naturalmente quando tu prendi un libro in mano, la prima cosa che pensi, ma di che cosa si tratta? E cerchi di capirlo dal titolo. Il titolo, quando ti dice tutto il bello del brutto anatroccolo, ho pensato, ma che vuole dire? Ma, voglio dire che ognuno di noi, prima di diventare cigno, è sempre un brutto anatroccolo. Allora, quello che dicevamo, scusa, quello che dicevamo, che il brutto anatroccolo è il fumettista che diventa poeta. Che diventa poeta, ovviamente. Però essere brutto anatroccolo mi è servito, perché tutto quello che ho scritto è una forma che è stata sempre dentro di me, cioè dare delle motivazioni a quello che ho sempre disegnato. Ecco, prendendo spunto dai miei disegni, io riesco a tirare fuori dei ricordi che tramuto in pensieri, magari mettendo un po' di mio che non fa mai male, però sono questi in fondo quello che ho fatto durante questo percorso che si chiama tutto il bello del brutto anatroccolo. Ah, bello, questo è, quindi è un percorso. È un percorso. Ma infatti c'è, io ho visto che è uscita molto fuori la tua ironia, perché sbirciando un po' anche su Facebook, ho visto il promo del tuo libro e dice, vietato ai deboli di cuore. Vietato? Perché? Perché in fondo anch'io sono un romantico, ma tutti un po' lo siamo, perciò mettiamo sempre al primo posto la faziosità che sta dentro di noi. Il cuore è molto fazioso, è istintivo, perciò stai attento, incontrai delle cose che ti faranno anche pensare, anche sorridere, però sempre col pensiero che va avanti. Ma infatti passo alla professoressa perché… No, mi chiamate professoressa, ti prego. Eh, vabbè, qui siamo davanti alle telecamere, per questo. Svitrice. Ah, vero, scusa, perdonami, hai ragione, va bene. Allora, no, a proposito di questa cosa, io ho letto con molta attenzione la prefazione che tu hai scritto e devo dire che tante emozioni che io avevo avuto leggendo il libro, poi le ho riscoperte perché normalmente è un mio stile, cioè io la prefazione la leggo alla fine. È giusto. Perché voglio capire, prima di tutto, avere una mia idea e poi naturalmente vedere se combaccio. In questo caso devo dirti… Ti sei riconosciuto. Sì, perché ho visto che effettivamente la vena poetica di Santo è come se non fosse percepita da se stesso, cioè è come se anche lui si stupisse di questa cosa. E ho letto che anche tu, quando dici che si schermisce dietro… Sì, è vero, non voleva che scrivessi poeta, ma io mi sono imposta. È effettivamente, è vero. Cioè, quindi tu hai fatto poi oltretutto anche una bellissima cosa, cioè hai detto tra l'inizio del io disegno l'inverosimile e il sono uno che racconta storie quasi vere c'è proprio tutto un percorso. Sì, sì, è un percorso circolare. Ma che cosa intendevi? Questo libro sembra realizzato con tranche de vie, così pezzetti, e io ne ho tirati fuori alcuni, però in realtà poi se si guarda bene ci sono delle storie che si possono ricostruire. Io le ho ricostruite in maniera disordinata, anche perché invece di scarabocchiare il libro mi sono scarabocchiata, no, nemmeno le fotocopie, questo è il PDF iniziale, per cui le pagine non corrispondono e si creano delle intersezioni interessantissime e voglio cominciare da pagina 40 con un tranche de vie, perché gli ho chiesto a te, ma tu quando è che disegni? E lui ha mandato anche delle fotografie, le ha messe su Facebook, principalmente sono al semaforo, e di fatti qua c'è la prima che voglio citare, aspettando il verde, ti aspetto da quasi due penne consumate, chiaramente, evidentemente ha disegnato tanto, perché poi i disegni quando li guarderete nel libro vedrete consumano tanto. Ma infatti adesso sta passando in sovrimpressione anche per esempio. Ecco questo, dicevo, lui ha il semaforo. Allora spieghiamo un attimo per chi naturalmente ci sta guardando cosa il libro è veramente una serie di poesie brevi, oppure ci sono anche degli haiku che sono veramente deliziosi, e poi ci sono tutta una serie di tuoi ritratti che vengono quasi associati, cioè no, vengono associati, ma diciamo con una loro logica che però in prima battuta tu non riesci a comprendere. Però? Tanto che, e la domanda che ti volevo fare è questa, io ho notato che tutte le tue, diciamo le tue illustrazioni, e sono tutte dei ritratti di donna, molto diversi l'una dall'altra, però hanno una cosa in comune, vediamo se ho indovinato. Non c'è mai un sorriso, ma sono sempre, diciamo, donne che hanno uno sguardo molto profondo e con, possiamo dire quasi come la sindone, che hanno quello sguardo assolutamente così, che non si capisce, che non si intende. No, devo dire sì, hai perfettamente ragione, perché quando riesco a disegnare, e intanto vorrei dire una cosa molto importante, sotto il profilo tecnico tutti quei disegni sono realizzati con una semplice penna a biro, e io utilizzo soltanto queste, perché io tramuto la penna a biro come se fosse una sorta di pennella interiore. Cioè riesco a tirare fuori da quello che ho dentro, magari forse poco, soltanto… No, no, assolutamente no. E mi metto a disegnare in maniera meticolosa, e tra una penna fuoriuscita che va a sbavare, mi viene in mente, è come se si alzassero dei pensieri fino a diventare scrittura. Ecco, le parole in questo caso sono, per me, per quello, sono le stampelle del disegno, cioè aiutano a camminare quel disegno nel vedere degli altri. Gli altri possono anche immedesimarsi, riconoscere… Sì, sì, ma infatti è vero, ma io per esempio, allora ti chiedo una cosa, scusa, da profano, ma per fare un disegno del genere quanto tempo ci vuole? Allora, ci vogliono, per esempio, il tempo che aspetto la mia nipotina, oppure che scatti un verde, ecco, tutti questi intermezzi o intervalli riesco a fare un disegno come si deve, però io, vedi, un disegno, come diceva il mio maestro, non finisce mai di essere tale, perché c'è sempre qualcosa che l'autore, il disegnatore cerca di continuare a fare, cioè mi fermo per necessità, ma io continuerei all'infinito. A volte sono molto pignolo nel disegno. Lo immagino, ma stavo pensando anche se uno sbaglia, che succede? Allora, io ho sempre detto che gli errori non si cancellano, ma si correggono strada facendo. Io cerco sempre di correggere quello che ho fatto, alcune volte mi riesce meglio, alcune volte meno, però io non guardo mai se è corretto o bene, cioè, aspetta agli altri verificarlo, e quasi sempre sono riuscito a correggerli questi, erano sulla carta. Ma allora io, giustamente chiedo a Gloriana, ma scusami, cioè tu sei stata, cioè hai avuto un po' il privilegio di leggere, di analizzare prima che andasse in pubblicazione, no? Lui sta parlando appunto di questa forma quasi immediata, no? Di associazione alle parole del disegno, no? Ecco, ma tu nel momento in cui l'hai letto il libro, per poter appunto scrivere anche una prefazione, che sensazioni avevi? E allora devo fare una confessione. Io ho scritto la prefazione sul PDF, mi dispiace, però quando poi ho, quindi ho indovinato cosa poteva esserci nei disegni, non li ho visti quando ho scritto la prefazione, perché questa è stata... Questa è una bella confessione, però... Eh vabbè, così funziona. Però Gloriana conosce molto. Conosco i suoi disegni, e devo dire che quando ho avuto il libro fra le mani, l'ho sfogliato, ho cercato le conferme, e ho visto che i disegni confermavano quello che io avevo immaginato, che avevo tirato fuori dalle parole. Perché è una percezione interiore anche di chi legge, di chi riceve, io nell'incipit noi dicevamo, appunto parlavamo di consegnare e ricevere, no? Emozioni e tutto questo. Quindi effettivamente c'è questo aggancio. Sì, sicuramente, sicuramente. Le parole e le immagini sono strettamente connesse. Lui, quando io gli ho chiesto, dico, ma come nascono? Dice, sono le molle che danno l'avvio alla mia creatività, quindi nascono assieme l'idea del disegno e l'idea del testo. E quando io ho visto solo il testo, e devo dire che mi sono immaginata, conoscendo ovviamente i disegni che lui fa, e poi li ho riconosciuti, li ho trovati. È stata un'emozione bellissima vedere come mi aveva parlato attraverso le parole. Ma infatti è questo, ecco, se poi alla fine è immediato questo transfert che c'è... Sì, sì, è vero, avviene immediatamente. Ma secondo te, allora, noi poco fa, diciamo prima di iniziare a Telecamere Spente, parlavamo un po' della timidezza da parte di Santo a considerarsi un poeta, perché lui si considera più che altro un illustratore, si considera, ecco, quasi un artigiano della penna, diciamo così. Sì, anche. Però poi ne esce fuori appunto questo, ecco. Secondo te come è riuscito lui a superare questa timidezza del... Del mostrarsi. Esatto, del superare quella che è il suo limite interiore, che poi non è, cioè nel senso che lui risente, invece poi a esprimere, secondo me, molto bene, con pensieri molto belli. Sì, molto belli, che affondano le radici nella letteratura, nella poesia italiana. Io ho trovato dei punti di contatto con Montale. Non so se lui sia uno studioso, un appassionato, un lettore, oppure è solo un fatto di sintonia spirituale, di consonanza spirituale. Però nelle varie... Io ho isolato dai fogli che ho smembrato dal testo. D'altronde un libro deve essere anche utilizzato in questo modo. Sì, sì, io non ho osato smembrare il libro materialmente, ho smembrato sempre qui il pdf famoso dell'inizio. E ho ricostruito un filone d'amore. Quest'amore che si manifesta in vari modi, nell'attesa, nella speranza, nel lasciare la porta aperta, e anche se sa che non verrà nessuno, oppure leggo così al volo qualcosa, a volte vorrei prendere il cielo e portarmelo a casa, solo perché una nuvola ha il tuo stesso profilo. Però a volte invece l'amore è un'attesa, un indirizzo che non si ricorda più la donna, non viene, lascia la porta aperta. Ma infatti, allora, noi ci siamo visti d'accordo, noi ci siamo visti adesso. Una delle cose che mi ha colpito è che appunto si avverte questo amore, e l'ho anche scritto, per cui nessuno può dire che non è vero, però c'è anche un travaglio. Ci sono delle emozioni, delle emozioni che sono molto forti, ma anche dei rimpianti. Penso, non lo so, Nina o Vorrei, ma c'è anche una scelta, proprio una speranza, una scelta di vivere, pioggia vera. Cioè, quello che io ho visto, ecco, tu hai un caleidoscopio di emozioni che veramente snoccioli con pochissimi versi, e questo secondo me è la difficoltà, cioè il poeta riesce a dare con pochissimi versi proprio delle emozioni. E tu hai dato veramente un'ampia gamma di queste emozioni. Ecco, come ti veniva? Cioè, nel senso, la poesia, perché è poesia, come ti arrivava? Ma secondo me non c'è un vero segreto, il segreto è vivere, vivere in una certa maniera, senza tralasciare nulla, essere curiosi della propria vita e di quello che ti accade. Soltanto in questa maniera riesci a immagazzinare tutto quello che ti circonda e ti sta fuori. Io non passo mai per caso su una strada, senza incrociare un marciapiede, un mattone, un qualcosa che mi riporta indietro. Io l'altra volta, quando mi sono riletto, Sciascia, mi ha colpito una frase che lui diceva, che a un certo punto della propria vita si torna ad avere una memoria presbite. Cioè, che vuol dire? Che si tenti a dimenticare quello che vivi sul momento e invece viene a galla tutto quello. Io per esempio sono arrivato già all'età di tre anni. Io già ricordo perfettamente mia madre che mi sgridava quando era al mare e avevo tre anni e mezzo, quattro. Ecco, questi ricordi messi su un disegno, su un foglio di carta, riescono a fermentare qualcosa di naturale per me. Non devo andare a cercare la parola difficile o quel momento. Non avviene subito, subito. Quindi è ora un getto... Ecco, come disegnare. Per me è molto semplice. Cioè, è chiaro che la tecnica c'è sempre, però ora sto acquisendo, col tempo, con l'età, col diventare vecchio, una certa maturità anche nel segno. E così è con le parole. Ma noi non siamo vecchi, siamo diversi. No, no, no. Vorrei che sia chiaro questo. Parlavo in prima persona. No, no, ma guarda, cioè, siamo lì. Per cui, va bene, ecco. No, è scherzando. No, è soltanto questo. Sì. È una forma di naturalezza così spontanea. Non devo cercarle. No, invece... Poi voglio fare una domanda anch'io. Prego. Subito, ti tolgo la parola. Certo, assolutamente. Io mi sono sempre chiesta e non ti ho chiesto mai poi alla fine, ma come hai operato la selezione? Perché tu avrai una quantità di disegni e di pensieri infinita. Come hai scelto? Stiamo facendo adesso, mi stanno aiutando anche dei ragazzi per... Io a casa avrò 50.000 disegni, non senti più. Quanti anni hai che disegni? Da tre anni che... Da quando sei diventato professionista? 16 anni. Appunto. Io a 16 anni ero al secondo anno del liceo e ho pubblicato una storia su una rivista francese che si chiamava, ancora mi ricordo, si chiamava Scenerento e non mi firmavo col mio nome perché siccome era per il mercato francese mi firmavo Saint-Lechat. Ed è una cosa bellissima perché poi i soldi non sono arrivati a me. Ah, bellissimo. Non mi hanno pagato. Bellissimo. Perché non avevo in quel periodo la partita IVA. Però mi hanno pagato. Ecco, da quel momento in poi, ce l'avevo anche prima, io ho sempre pensato al disegno disegnando, non pensavo di farlo dopo. Se mi veniva a farlo, lo facevo solo. E quindi la selezione? La selezione è stata molto dura perché potevo farne dieci, tu sai benissimo che... potevo farne dieci di fila, però è stata dura e mi ha aiutato molto la mia nipotina che è anche la mia assistente oppure anche quello che vende i peperoni che certe volte lo sentivo, gli mostravo delle cose per vedere. Ecco, in questo caso mi hanno aiutato le persone che mi circondano, le persone più semplici, non sono andato da chi... No, no, delle persone semplici. Questa è la naturalezza delle cose. Certo, è stato un po' particolare però. No, quindi quasi parla di lavoro di equip, no? Eh certo, sì, c'è un equip alle spalle di questo libro. Ma a proposito di equip, io ho una poesia che mi è piaciuta veramente tanto è Il colore del cielo. Dove tu affronti il tema dell'immigrazione, parli di barconi, parli di bambini e così via, e fai un dialogo tra un nonno e un nipotino, una nipotina. Vero, è verissimo. Infatti ti volevo chiedere, è assolutamente, siccome ho visto la tua assistente e quindi ho pensato è autobiografico perché è molto diretto e molto sincero. Abbiamo, io con la mia nipotina Margherita che adesso ha quasi dieci anni, parliamo anche di queste cose, l'hai visto in che maniera? Certo. È molto semplice e naturale, io penso che ai bambini bisogna dire tutto, in maniera giusta perché non si devono trattare come se fossero chissà che cose, sono delle persone che se tu gli parli in certa maniera ti rispondono alla stessa maniera. Cioè, perciò affrontare anche quei temi importanti, cioè l'immigrazione, quello che succede in Africa in questo momento, le guerre, tutto che ne consegue, se viene affrontato, io penso che si cresca anche in maniera diversa, si vede un mondo diverso, purtroppo non glielo stiamo prospettando in maniera molto, però se si comincia già dalla prima età a parlarne, invece di parlare soltanto di certe cose, ma io penso che sia la forma più naturale per insegnare i bambini a diventare grandi. Sono assolutamente d'accordo e purtroppo forse non molti bambini hanno la fortuna di avere nonni o genitori così aperti, perché a volte con il discorso di mantenerli assolutamente protetti da quello che succede all'esterno poi non si finisce per... Invece, quando io leggevo la prefazione, io avevo notato appunto i IQ, avevo notato questi... i IQ sarebbero praticamente dalla tradizione lo spieghiamo, la tradizione giapponese, sono delle, chiamiamolo poesie, di, mi pare che siano... Massimo due versi. Sì, due o tre versi, di 17 monosillabi dovrebbero essere, che hanno delle regole ben definite, non hanno titolo. E io immediatamente ho notato appunto questa grande prespicace, ironia, anche profondità in questi IQ. poi vado a vedere che anche a te aveva colpito questa cosa. Sì, è vero, sì, sì, sì. E quindi... Non è facile essere così penetranti con due versi, riuscire a cogliere il senso di quello che si vuol dire e creare un'emozione che deve passare poi al lettore. Ci vuole molta sensibilità per riuscire a farlo. Devo dirti che a me è la cosa che mi ha colpito e soprattutto l'ironia in cui avevi tu. Cioè praticamente lo spiazzarti con l'ultima frase, l'ultima parola che ti spiazza completamente. Mi ha ricordato Oscar Wilde. Magari stiamo parlando di aforismi e quindi lui era il rapper. Però ecco, questa cosa come ti vengo? Anche questo... Guarda, l'ironia in questo caso visto che io sono nato a Catania, sono catanese, amo molto la mia città. La licea come si dice? Sì, perché come si può definire in questi casi la licea? Ironia, sarcasmo, autoironia, come si può? Ecco, è una vena sottile che non riesce a dividere le cose oppure tutte cose insieme. Ecco, questo mio essere catanese e far parte di questa città anche nelle sue origini umili, non lo so, mi ha mi ha riempito di questa sorta di facile ironia perché poi diventa facile ironia. No, infatti quando tu stavi parlando mi ricordava moltissimo un nostro, non è concittadino, ma un nostro comico, cabarettista, Massimo Spata che ha fatto una diversa, cioè ha diciamo descritto i vari nostri dialetto e anche il modo di ironizzare. Ecco, diceva che il catanese è immediato, ha le scie immediate proprio questa rispetto al palermitano che è più filosofo. Il catanese lo riesce a individuare soltanto in due maniere perché ha la risposta sempre pronta e quando non parla si fa capire a gesti. Esatto, e può arrivare dappertutto. Ecco, per una persona come te che invece appunto hai passato il tempo cioè la tua vita tra la scrittura perché io ho letto alcune interviste tue e praticamente appunto tu dicevi che da sempre hai scritto, da sempre. Oggi la tua produzione letteraria io ero fermo a sei adesso siamo andati avanti perché il lockdown ci ha aiutato molto. Sicuramente. Ecco, come ti approcci invece per esempio quando hai fatto questa prefazione ma in generale come ti approcci tu alla scrittura? Perché lui ha parlato di una questione quasi naturale quasi immediata cioè la scrittura come il disegno è qualcosa che sgorga immediatamente. Sì, anche per me succede così però di solito io scrivo romanzi storici quindi da un lato c'è l'idea quello che voglio raccontare e poi c'è la ricerca del periodo degli episodi che voglio inserire i documenti e tutto quanto quello che può servire per dare veridicità a quello che racconto poi metto insieme il fatto storico con quello che creo quindi è un lavorio lento magari l'idea mi viene immediatamente per esempio quando ho scritto i romanzi su San Berillo era tanto che ci pensavo perché io sono nata in un quartiere vicino sono tornata a vivere e quindi l'ho toccato con mano lo tocco tuttora con mano per chi non è di Catania San Berillo è uno dei quartieri storici che durante il periodo negli anni 50-60 fu praticamente rasa al suolo perché doveva nascere tutta la nuova city economica di Catania e quindi moltissime persone furono spostate quasi in maniera coatta da lì da quella zona che era appunto un quartiere storico poi furono spostate finirono in periferia lontanissima e quindi si perse tra vivette una grande risorsa tradizione della nostra città quindi sono partita dall'emozione in quel caso perché è come se l'avessi vissuto in prima persona e poi ho cominciato a fare ricerche come sempre del resto faccio perché è la parte più bella della creatività la ricerca in archivio i documenti in questo caso i giornali i contatti con le persone per sapere così per farmi raccontare le loro esperienze perché questa è storia ma è recente sono tutti ancora insomma vivi ho parlato con tanta gente quindi per me la scrittura non è immediata nasce l'idea è immediata l'emozione che voglio raccontare però poi nasce lentamente con la ricerca poi magari trovo una pagina di giornale e mi viene un'idea mi suscita qualcosa come quando ho letto della morte di Periperi per esempio il mafiosetto appunto di San Berillo e allora ho immaginato la madre che lo trovava per terra in un lago di sangue lo invocava e così dal fatto dal dato così è nata l'emozione e l'emozione l'ho raccontata e dicono che poi arrivano queste emozioni infatti no ma stavo pensando una bella cosa cioè una bella collaborazione sinergia tra di voi perché l'immediatezza del disegno ma questo è una cosa con Doloriana abbiamo collaborato lei è stata una curatrice di una mia mostra nel 2012 che parlava di donne nel refettorio piccolo della biblioteca Cursino Recupero sì è vero lei è stata una io te l'ho detto che tu sei un fumettista di lungo corso e quindi no vabbè ma ripeto secondo me ecco questa è una bellissima operazione perché le forme d'arte sono tutte comunicazione comunicazione in varie forme però sono molto immediate e ti ripeto tu hai la grande capacità di avere in questo caso anche se ripeto la nostra sempre una piccola pillola di cultura che è uno strumento il libro per poi parlare un po' di tante altre cose abbiamo pochissimo tempo infatti siamo quasi in chiusura però mi piace ogni tanto anche fare uscire fuori quello che è il personaggio che è dietro questa cosa e tu praticamente con la tua forma d'arte vario pinta a questo punto hai dato delle emozioni comunque molto forti molto belle cioè da una parte con l'aspetto visivo l'immediato e dall'altra parte con l'intensità della poesia non so se sei d'accordo d'accordissimo c'è la visual art che da decenni ormai porta avanti questo connubio fra testo e parola e lui l'ha portata ancora più avanti perché nella visual art c'è il rapporto di causa ed effetto di solito l'immagine che richiama il testo o viceversa qui invece nasce contemporaneamente tutto contemporaneamente senza premeditazione senza premeditazione e questo va bene ok allora ti diamo come si dice il beneficio il beneficio dell'attenuante dell'attenuante io purtroppo penso che noi siamo arrivati proprio alla fine e mi piace molto mi è piaciuta molto questa abbiamo ricominciato questa stagione con voi ed è stato veramente bello penso che sia uno stimolo per andare avanti perché normalmente noi ogni puntata abbiamo dei scrittori che a volte sono persone già affermate a volte sono giovanissimi scrittori ragazzi e devo dire che mi piace molto perché è un modo per poter dare un servizio alla nostra comunità e alla collettività per cui santo ti ringrazio tantissimo io ringrazio te gloriana grazie di essere stata con noi e penso che tu verrai invece con un piacere per un tuo prodotto per un tuo romanzo saremo molto felici di parlarne con te per quanto riguarda noi invece questa è quest'anno diciamo cominciamo alla grande abbiamo parlato oggi con santo di grazia tutto il bello del brutto anatroccolo edizioni la rocca insieme a lui era anche gloriana orlando che praticamente ha fatto la prefazione del libro ed è una scrittrice che appunto avremo in ospite prossimamente per il momento posso dirvi soltanto grazie di essere stati con noi spero che come al solito sia stata una bella trasmissione quindi apprezzata anche da voi posso dirvi soltanto alla prossima e buona vita a tutti ciao grazie a tutti Grazie a tutti.